Allora, andiamo a capirci. Questo non è un video come tutti gli altri, evidentemente, e credo che lo si possa intuire già dall'inquadratura. È un video in cui io sono finalmente, veramente, definitivamente arrabbiato. E adesso vi spiego perché. Io sono arrabbiato con una parte di voi. Una parte che progressivamente è sempre più alta, motivo per cui mi sono deciso a fare questo video, che sarà anche l'ultimo, primo e ultimo. Io mi riferisco in particolare ai commenti che mi capita di leggere sotto ad alcuni miei video, guarda caso quelli che presentano le mie idee, soprattutto quando queste mie idee non sono di lodi piegate, chine al sentire comune, ma magari presentano una posizione dissenziente, divergente. Ecco allora che la qualunque, come direbbe qualcuno, si permette di aggredirmi perché io mi sono permesso di esprimere le mie idee. Questo è totalmente inaccettabile. Come credo sia chiaro, io sono aperto al confronto, o meglio, sono aperto ad accettare pareri diversi dai miei, se espressi con argomentate motivazioni e con il dovuto garbo. Nel momento in cui anche chi esprime queste opinioni divergenti, ma poi si permette di darmi più o meno in modo implicito o esplicito, molte volte, dell'idiota, dell'incompetente, dell'impreparato, allora questo diventa totalmente inaccettabile. Diventa una posizione tautologica e assolutamente dittatoriale di quello che mi piace chiamare come pensiero unico. Ora, questo io non lo accetto. Non accetto neppure, e questo è un altro caso, questo è un caso pietoso per chi propone questo tipo di osservazioni. Dicevo, non accetto nemmeno coloro che ascoltano tre minuti di un mio video che ne dura trenta e poi se ne escono con lapidarie affermazioni, come se fossero queste affermazioni dissenzienti dal mio pensiero, ma che magari io, dopo un po' nel video, esprimo a mia volta. Ovvero, nel momento in cui voi decidete di guardare un mio video, i miei video durano molto non perché io dica aria fritta per 30 minuti, perché tutto quello che io esprimo è basato su una architettura narrativa molto precisa, molto pensata e ogni cosa che dico è correlata alle altre. Quindi siete liberissimi e ci mancherebbe altro di guardare tre minuti su 30 o sette o quello che volete voi. Addirittura non solo lecito ma in molti casi necessario, mi rendo conto che i miei video sono lunghi, ma a quel punto non permettetevi di commentare. Non permettetevi di commentare un ragionamento ridotto a tre minuti che invece implica necessariamente dover ascoltare tutti i 30 minuti per poter dare un giudizio su quello che io penso e quindi su quello che io dico. E questo è l'altro caso che letteralmente mi fa molto arrabbiare, ma spesso mette alla berlina chi lo fa, perché evidentemente nel momento in cui dite eh no l'incetto perché tizio è Y e magari dopo dieci minuti da che voi avete smesso di guardare il video io stesso dico che il tizio è Y e chi ha guardato tutto il video sarà il primo a sorridere su queste affermazioni avventate e devo dire che spesso accade che altri utenti si permettono di puntualizzare a questi distratti che hanno visto solo una parte del video come stiano dicendo una cosa che in realtà io dico nel video. Ma certamente tornando all'inizio quello che veramente mi indispone è la dittatura del vostro pensiero all'interno di un mio video, ovvero all'interno di casa mia, perché questo canale YouTube, come secondo me tutti i canali YouTube, non è un forum di discussione, è il mio spazio in cui io esprimo le mie idee e non è previsto che queste idee possano essere discusse nello spazio stringato di un commento. C'è poi una terza categoria che mi fa abbastanza arrabbiare, ovvero quelli che dedicano pagine intere, cioè fanno commenti lunghissimi da 4-5 mila parole per esporre il loro punto di vista. Benissimo, ma non è questo lo spazio ancora una volta e ancora una volta perché non è un forum. Se voi volete esprimere le vostre idee aprite un vostro blog, un vostro canale YouTube ed esprimete le vostre idee. Non venite ad approfittare del mio spazio con quasi 23 mila iscritti per mettere in mostra le vostre idee. Non so se è chiaro il concetto. Lo spazio dei commenti di un video di YouTube è uno spazio di commento, di piccolo commento a quanto visto, non all'espressione articolata di tesi, antitesi e sintesi da parte vostra. Non è questo lo spazio per fare questo. È un allargarsi, come dicono le persone più garbate. E io sono stanco che questo accada. Ora io non sto promettendo nulla. Io dico semplicemente quello che farò da adesso in poi e sarà filtrare i commenti. E come vedrete io non filtrerò i commenti negativi perché se qualcuno in modo pacato, sintetico, magari anche argomentato ma magari anche no, dice no io non sono d'accordo con quello che hai detto e basta anche solo questa frase detta così, quel commento apparirà. Quelli che non appariranno più e quindi risparmiatevi la fatica di farli, sono quelli che ho appena descritto. I commenti capziosi, i commenti arroganti, i commenti insultanti, cioè tutta una serie di cose, peraltro sempre più tipica dello spazio social web, come ama dire qualcuno. Peccato che io sia un vecchio dinosauro e queste regole scritte o anche più spesso non scritte non le accetto e dove sono presente io non funziona così, soprattutto laddove io ho la manopola della cosiddetta moderazione. E quindi la moderazione che verrà applicata in modo rigido e costante da ora in poi è esattamente in questa direzione. Filtrare gli arroganti, filtrare i violenti, filtrare i prevaricatori e filtrare anche i distratti che si permettono di dire quello che io dico dopo che loro hanno smesso di ascoltare e seguire il video. E ripeto, fermo restando, il pieno diritto di guardare solo una parte dei miei video e ci mancherebbe altro. Anch'io quando guardo altri video magari molto lunghi capita che non li guardi tutti fino in fondo, ma sono lontano anni luce da lasciare commenti. Oltretutto questo potrà non interessarvi. Ma io sono un appassionato, un divoratore di video su YouTube, soprattutto degli argomenti che mi appassionano. Ma credo che da quando sono diventato un appassionato frequentatore di YouTube, prima ancora che YouTuber io stesso, credo di aver postato forse due o tre commenti in tutto. Io non commento mai. Io guardo, penso, sono d'accordo, non sono d'accordo, ma è un problema mio essere o non essere d'accordo con chi propone qualcosa. Nella peggiore delle ipotesi decido di non seguire più quel canale, ma non mi permetto mai, mai di andare a sindacare quanto proposto da altri. Io spero di essere stato chiaro una volta per tutte e vi garantisco che io leggo tutti i commenti, nessuno escluso, e questo da sempre. Non me ne scappa uno dei commenti che voi lasciate sotto i miei video. Sono molto attento e molto scrupoloso e probabilmente molti penseranno che sono anche antipatico per aver fatto questo mio intervento, in realtà onestissimo e all'insegna della massima trasparenza. Pensate che sia antipatico? Pazienza. È il rischio che corrono i cosiddetti senza pelle, come io posso a buon diritto definirmi. Cioè quelle persone che non filtrano, non pongono filtri, non pongono filtri all'onestà intellettuale e all'onestà di comportamento e di atteggiamento nei confronti del mondo. E con questo credo che possiamo proprio concludere questo video extra, per così dire, e che mi è costato moltissimo farlo, ma ripeto, come forse avrete capito, io mi faccio coinvolgere personalmente in queste cose. Non riesco a mantenere un atteggiamento distaccato e come sempre questo è un mio pregio, ma anche un mio difetto. E con questo vi rimando al prossimo video, nuovamente dedicato alle due materie che ci piace discutere ed affrontare insieme, ovvero la musica e l'alta fedeltà di riproduzione sonora. Grazie.